Oggi è un momento importante per quanto riguarda la realizzazione del progetto qui a Trapani denominato Giovani Autori del Territorio, progetto GATT, che è stato appunto finanziato dal Dipartimento della Gioventù che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e è stato realizzato qui presso il Centro Museale di Art San Rocco. Questo progetto che coinvolge appunto i giovani del Trapanese nel sviluppare degli itinerari culturali della città oggi ha visto un momento d'incontro dei promotori culturali coinvolti nel progetto con il target obiettivo quindi con i partner che sono costituiti dalle scuole, dal liceo classico, dal liceo scientifico, dal liceo tecnico per il turismo dall'Istituto Alberghiero e anche da associazioni culturali e ambientali della città quali in particolare il CAI e il Club Unesco Erice. Oggi i promotori culturali del GATT hanno presentato al pubblico, ai giovani, agli studenti e alle associazioni gli itinerari tematici della città di Trapani e gli itinerari tematici sono sicuramente le eccellenze più attrattive del nostro territorio e attraverso una progettazione partecipata con le scuole e con i giovani studenti avremo modo di ricevere suggerimenti e consigli per poter rendere questi itinerari sicuramente più interessanti e più fruibili per i turisti.